Si intitola Elogio della simmetria, l'arco creativo di Enzo Tardia, il libro che raccoglie 30 anni di attività del pittore trapanese, iniziativa del Rotary Club Trapani, la presentazione nel pomeriggio con inizio alle 17.30 presso il Museo Pepoli. Coordina il presidente del Rotary Livio Marrocco, interventi del direttore del Museo Roberto Garufi, del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, di Tanino Bonifacio, critico e assessore alla cultura del Comune di Gibellina, e di Aldo Gerbino, critico d'arte, che ha curato la monografia su Enzo Tardia per le edizioni Tule. Nel libro, scritti di critici e curatori pubblicati in occasione di esposizioni personali e collettive, nonché estratti da corrispondenze private con altri artisti, testimonianze e immagini relative all'arco temporale che va dalla fine degli anni Ottanta ad oggi. Nel libro, anche un'antologia critica che raccoglie testi di critici e giornalisti come Renzo Bertoni, Dario Micacchi o ancora Giorgio Celli e Andrea Romoli Barberini, poeti come Lucio Zin e Franco Campegiani, mentori come Ugo Attardi e Tuli Sottili. Ricca la documentazione fotografica.